Ciao a tutti i nesini, sono qui con un nuovissimo video è uscita la seconda serie dei Tamagoshi per il ventesimo anniversario sono troppo curiosa di vedere come sono questo è sempre della Giochi Preziosi e mi è arrivata questa confezione carinissima siccome sono delle uova ovviamente a forma di confezione per le uova appunto che è super carina anche nella prima serie c'era questa confezione qui ora ve la faccio vedere questi ovviamente li trovate nei negozi di giocattoli eccoli qua io vi metto in descrizione il link al sito della Giochi Preziosi così potete andare a vedere tutte le varianti che ci sono sul sito e poi potete vedere appunto se acquistarli e qual è il prezzo consigliato e tutto quanto vi lascio qui sotto il link mi raccomando cliccateci perché ci sono una marea di novità quindi vi lascio il link, cliccateci allora adesso vediamo vediamo un po' com'è il mio Tamagoshi perché sono troppo curiosa allora qua appunto c'è la confezione per le uova che carino allora questa è un'altra variante allora qua c'è tutta la solita paglia così eccolo qua ed è del mio colore preferito quindi viola barra fucsia trasparente che come lo volevo sono troppo contenta allora questa è la seconda serie come vedete c'è scritto Tamagoshi ora prendo quello vecchio così vi faccio vedere cioè quello vecchio insomma quello della prima serie così vi faccio vedere com'era eccolo qui era questo è defunto poverino come potete vedere la grandezza è uguale il design è lo stesso solo che cambia le scritte diciamo ecco quindi abbiamo questo che è come lo volevo io stupendo anche questo è fantastico il colore mi piace tanto però volevo tantissimo un Tamagoshi trasparente e poi del mio colore preferito quindi perfetto è della Jig da 8 anni in su l'originale era ovviamente della Bandai e questa come vedete è serie 2 quindi se non volete sbagliarvi tra serie 1 e 2 dovete leggere qua eccolo qua allora da questi disegni sembrerebbe sempre lo stesso personaggio ora non so se cambia però lo andiamo a vedere comunque questo qua sembrerebbe lo stesso lo stesso tipo di personaggi che potevate trovare in questa serie qua perché io avevo questo qua questo qua e questo qua l'evoluzione faceva questo pattern qui quindi ora lo vado ad aprire e vediamo insieme come funziona eccoci qua allora in teoria le indicazioni che sono presenti all'interno della confezione sono sempre le stesse se volete vedere gli altri colori dei tamagotchi che sono presenti nella collezione vi rimando appunto al sito della Giochi Preziosi e ve lo lascio qui sotto in descrizione allora qui basterebbe tirare la linguetta e si accende appunto e si vede l'uovo allora ora non mi ricordo se era con il B sì dobbiamo impostare l'ora allora come si impostava l'ora? no aspettate mi sa che non posso più cambiarla aspettate ora ci provo e devo mi sa fare il reset qui dietro c'è il pulsantino di reset e ci riprovo ok ho messo l'una e mezza circa di pomeriggio ora dovrebbe essere a posto quindi ora aspetto che si schiuda l'uovo e vi faccio vedere com'è intanto vediamo un po' com'è fatto il tamagotchi è super carino il fatto che sia trasparente mi piace tantissimo ovviamente potete poi anche togliere il suono e dopo vi faccio vedere come si fa che carino mi piace tantissimo questo colore sono curiosa poi di vedere quali sono gli altri colori nella serie quindi dopo mi vado a vedere sul sito della giochi preziosi quali sono gli altri pattern perché sembrano davvero molto carini e mi piace il fatto che ci abbiano scritto tamagotchi riprendendo quelli vecchi ovviamente ci vediamo tra poco appena si schiude eccolo qua si sta schiudendo e ecco il pulcino che è uscito fuori è carinissimo si è uguale all'altro comunque il disegno non cambia intanto vedete il mio riflesso qua allora adesso per il cibo come si faceva ecco così date cibo oppure l'altro che era tipo l'energia se ha dei bisogni particolari ve lo dice cliccando cioè se cliccate in questo vi dice qual è la cosa che gli dovete dare ora vi faccio vedere un attimo per togliere il suono mi sembra si spingano questi due insieme o forse era la c vabbè aspettate è passato un po' di tempo e quindi non mi ricordo più allora così e poi mettete off e così non fa più rumore qua vi dice l'ora allora vi faccio vedere un attimo come come si vedono allora questo qua per esempio è aspettate che vi faccio vedere meglio ok qui ha fame e ha questo simbolino qua questo è arrabbiato e quindi gli dovete dare una caramella questo è quando mangia quando prende la caramella e qua lo dovete pulire e per pulirlo mi sembra si spinga semplicemente C o A non mi ricordo e qua dorme c'è sia in questa versione sia nella versione a luci spente quando sta male appare questo teschietto qui e poi qui è quando quando muore il pet se muore vi basterà spingere il pulsantino qui dietro di reset e ricomincia da capo e quindi vi esce un nuovo uovo e quindi ricominciate da capo e niente è molto carino e appunto la modalità è identica a quella della prima serie cambiano solo i design quindi i colori eccetera e li trovo molto molto carini sono curiosa appunto di vedere quali sono quelli nuovi vi lascio qui sotto il link della giochi prezioso in descrizione così andatevi a vedere quali sono i vari pattern fatemi sapere se vi piace se lo acquisterete e appunto cosa ne pensate e restate sintonizzati sul canale per nuovissimi prodotti tante novità in arrivo vi mando un bacione un salutone mi raccomando iscrivetevi al mio canale se vi va e noi ci vediamo molto molto presto e partecipate ai miei giveaway ce ne sono ben due aperti quindi al prossimo video e niente vi mando un bacione e a presto ciao